Carissimi alunni delle classi terze, ora andremo a studiare il brano che si trova a pagina 107 del volume A e si chiama L'anno che verrà. Ho fatto un video anche ed esclusivamente per la parte del solfeggio cantato. Perché? Perché è un brano abbastanza complesso, ha anche questo delle sincopi e mentre nelle esecuzioni quelle per flauto e tastiere il tempo è un tempo reale con la base, un tempo effettivo, un tempo corretto, nella parte del solfeggio cantato, che è una parte più di apprendimento, diminuerò la velocità del tempo. Bene, mi prendo la nota e partiremo con con l'esecuzione. Ecco, anche qui ripeto il discorso che ho ripetuto già nei video precedenti, ovvero nell'ultima riga sotto la parentesi quadrata con scritto numero 1, le battute di aspetto dove non si suonano, non sono due, ma sono tre. Ok? Mi raccomando questo punto qua, che è fondamentale. E dopo, le note che sono, per la precisione, l'ultima nota della prima battuta dell'ultima riga e la prima nota della seconda battuta dell'ultima riga, sempre, quelle due note là, che sono due mi, vanno legate insieme. Così come, sempre all'ultima riga, l'ultima nota della penultima battuta, che è un do, va legato insieme all'ultima nota dell'ultima battuta, che è un altro do. Dopo queste premesse, parto con il cervello cantato. Nella esecuzione con gli strumenti, questo brano va ripetuto tre volte. Ok? E l'ultima volta, anziché ripetere il numero 1 sotto la parentesi quadrata, ripetiamo e eseguiamo il numero 2 sempre sotto l'altra parentesi quadrata. La terza volta, non eseguiamo più il numero 1, ma eseguiamo il numero 2. Bene. Adesso parto col sorpeggio cantato. In un tempo più lento. Un, due, tre, quattro. Mi fa, sol, sol, do, do, re, la, sol, sol, mi fa, fa, mi. Uno, due, mi fa, sol, sol, do, do, re, la, sol, sol, mi fa, fa, mi. Mi fa, sol, sol, do, do, re, la, sol, sol, mi fa, fa, mi. Un, due, tre, quattro. Mi fa, sol, sol, mi fa, fa, mi. Un, due, tre, quattro. Mi fa, sol, sol, do, re, la, sol, sol, mi fa, fa, mi. Mi fa, sol, sol, do, re, la, sol, sol, mi fa, fa, mi. Mi fa, sol, mi fa, mi. Mi fa, sol, mi fa, sol, mi fa, sol, mi fa, mi. Mi fa, sol, sol, do, do, re, la, sol, sol, mi fa, fa, mi. Mi fa, sol, 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 mi 3, 4, 1, do, re, mi, mi, la, sol, sol, la, re, la, sol, sol, mi, fa, fa, mi. 3, 4, 1, mi, fa, sol, sol, do, do, re, la, sol, sol, mi, fa, fa, mi. Quattro, un Do, Re, Mi, Mi, La, Sol, Sol, La, Re La, seconda, Sol, Sol, Mi, Fa, Re Eccoci qua Il brano è questo qua Perdonatemi l'ultima nota che è bassa Un pochino bassa per la mia stitura di voce E quindi non mi è venuta troppo Comunque l'ultima nota è un do Io vi ringrazio Vi saluto E vi do appuntamento al prossimo video Mi raccomando questo è il video più importante che ci sia Per l'apprendimento di questo brano Che è abbastanza difficile Buona prosecuzione e buono studio